Voglio dire semplicemente che il regolamento presentato dal consigliere Corsetti è già stato bocciato tre volte. Tre volte perché? Perché è stato presentato in maniera molto similare nella passata consigliatura, quella di Marino, e lo stesso PD lo ha bocciato, l'abbiamo visto passare all'interno dei municipi e abbiamo dichiarato parere negativo quando fu nella passata consigliatura. È stato bocciato un'altra volta proprio dai pittori e dai caricaturisti che ci sono venuti a rappresentare quella che è da subito le criticità emerse nel suo regolamento e il fatto che fossero stati inascoltati. Infatti da qui è partito il nostro percorso, il percorso della commissione sia commercio che cultura, in condivisione con i soggetti che poi sono interessati in primo luogo con questo regolamento. È stato bocciato una terza volta nel passaggio dei municipi, anche questa volta maggioranza è stato bocciato. Io direi che noi abbiamo presentato, adesso il consigliere Coglia ha rappresentato quali sono le modifiche più macroscopiche, ma il regolamento è stato cambiato in toto, sia nella sua scrittura sia con altre piccole modifiche che però hanno portato delle modifiche sostanziali per cui gli stessi pittori e caricaturisti hanno potuto approvare questa proposta di regolamento. Adesso sta passando in questo momento per i municipi, anche i municipi stanno dando il loro contributo. Noi abbiamo pensato che fosse importante invece di riportare una proposta che già è stata bocciata, così com'era nel 2014, nella consigliatura Marino, di prenderci più tempo, però condividerlo con tutti i soggetti interessati, fare molta più attenzione e condividerlo con tutti i municipi proprio per avere un prodotto che fosse più di qualità. Altra questione, lo stesso atto è stato condiviso con lo stesso commissario ad acta, che ha dato anche lui stesso dei piccoli contributi formali che noi abbiamo assolutamente acquisito e che stanno già girando per i municipi. Tutto questo per dire che noi a dispetto di quello che crediamo importante, cioè la qualità e la condivisione, il passaggio sul territorio, crediamo che sia importante magari prendersi un po' più di tempo per raccogliere tutte le istanze perché ci sia la massima condivisione, perché questo regolamento sia il più condiviso possibile. Già abbiamo discusso la possibilità di integrare il suo regolamento in commissione, ma abbiamo chiesto di presentare noi della maggioranza un atto di commissione che fosse condiviso, un atto di commissione congiunta, sia commercio che cultura, chiedendo il suo ritiro del regolamento, ma così da parte del commissario Corsetti non si è voluta raccogliere questa richiesta e quindi ad oggi già abbiamo dato parere contrario in commissione sia cultura che commercio, in linea con il nostro parere già rappresentato, insomma oggi porteremo avanti quello che è il nostro voto contrario. Grazie.